Il Consiglio Comunale di Sant'Agata di Militello nella seduta di sabato in seconda convocazione ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche con otto voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e sette contrari di quattro consiglieri di opposizione e dei tre consiglieri indipendenti. È stato così possibile dare il via libera al documento unico di programmazione 2021-2023 e al bilancio di previsione dello stesso periodo. Una approvazione è giunta sul filo di lana dato che il commissario ad acta Giovanni Cocco aveva dato tempo fino al 27 dicembre per regolarizzare il bilancio. Se così non fosse stato il Consiglio Comunale sarebbe decaduto. Dopo lo stallo di sabato sera dovuto all'emendamento dell'opposizione per il project financing del cimitero terminato con una votazione di otto favorevoli e otto contrari i consiglieri di minoranza Starvaggi e Vitale hanno lasciato l'aula per protesta lasciando così il via libera alla Giunta. La proposta presentata con la bocciatura degli emendamenti ha quindi ottenuto il voto favorevole degli otto consiglieri di maggioranza con il solo voto contrario del consigliere indipendente Melinda Recupero e l'uscita dall'aula degli altri consiglieri che non hanno partecipato alla votazione. L'approvazione del bilancio di previsione consentirà finalmente lo sblocco di ingenti risorse finanziarie destinate ad importanti servizi sociali, investimenti, manutenzioni sui servizi a rete e pagamenti di debiti fuori bilancio, ha commentato l'assessore al bilancio Antonio Scurria. L'opposizione però preannuncia battaglia, rimarcando la propria scelta con una nota. La scelta del consigliere Starvaggi, seguita dal consigliere Vitale, di non partecipare alla votazione del piano triennale, è stata determinata dalla diffida del commissario ad acta, scrivono i consiglieri Starvaggi, Puleo, Vitale e Brancatelli. Le posizioni giuridiche e le prerogative dei consiglieri saranno tutelate in tutte le sedi, anche penali, e sarà valutata l'opportunità di impugnare gli atti davanti al giudice amministrativo, concludono i consiglieri.